Roma merita di più, l'Italia merita di più, la disfatta di Marino è la disfatta di Renzi, che l'ha difeso alla faccia di tutti e di tutti, soprattutto dei cittadini romani, quindi non solo Roma, perché i primi non sono solo a Roma, penso a Milano, penso a Bologna, penso a Torino, è la volta della gente normale, quindi spero che la figura di fango colossale di Marino e del PD avvicini tanta gente normale che abbia voglia di costruire il futuro delle sue comunità, votare domani mattina perché in Italia la democrazia è già stata sospesa da troppo tempo. La Lega c'è e ci sarà anche a Roma, ci chiamano in tanti, ci chiedono di esserci in tanti, magari anche con un nostro candidato, perché no, quando gli altri decideranno cosa fare ce lo dicano e ci ragioniamo, però noi ci siamo e ci saremo sicuramente. Però Marino ha ancora 20 giorni per decidere? Beh sarebbe la follia, vado io in ufficio con lo scotch e lo porto via io di peso, quindi penso e spero che ieri sia stata una giornata di liberazione per i romani e questa città invece delle Olimpiadi di cui fanfaroneggia Renzi ha bisogno di cura, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di affetto e ha bisogno di gente normale. Renzi l'ha difeso fino a ieri, poi dopo l'assalto del Papa che è una prima nella storia, neanche Renzi è riuscito a difenderlo, però pensiamo a Crocetta in Sicilia, pensiamo alla Calabria, pensiamo a Pisapia che si è già reso a Milano, pensiamo al mal governo di Bologna, c'è il PD che fino a che può fare promesse e raccontare bugie a livello nazionale può andare avanti nei sondaggi, ma a livello locale è un disastro per le città che amministra, quindi il primo responsabile della sconfitta di Marino è Renzi, non ha altri nomi.